e niente oggi siamo al mare di notte e niente oggi siamo al mare di notte in un ristorante e qui ci sono io e niente questo è tutto forse raga voi sentite il vento però siamo al mare cioè capitemi domani voi vedrete tra un secondo che sarà giorno però cambio la posizione perché non andare al campeggio raga ovviamente io andrò in campeggio e quindi c'è il suo ristorante con un mega taglio arriverò al campeggio e sarà giorno cioè raga quindi al mio pic sarà giorno e niente oggi adesso stiamo entrando nel ristorante ci becchiamo domani e niente comunque forse quella clip arriverà dopo di questa no dopo di questa bello ok raga buongiorno è cambiato anche posizione per cui mi sono risolvendo su un campo e tutti ragazzi sono Mark Gamer ragazzi e oggi siamo qui alle due parole in estate e ragazzi innanzitutto vi volevo ringraziare per i 35 iscritti ragazzi veramente vi ringrazio di cuore ma non lo so quanti iscritti stiamo perché il computer non posso vedere però ci vengo dal telefono perché ho messo che voi non potete vedere i miei iscritti comunque anzi qui c'è il campo da tennis poi oh ragazzi scusate se vi sto facendo il vomito qui c'è il campo il campo da calcio guardate che bello vabbè poi qua c'è il paccheggio ragazzi e poi vi faccio vedere un attimo la piscina ok ragazzi adesso vi faccio vedere la mia faccia non si parte così si fa schiacciare si sa che mi arriva alla piscina ragazzi che sono ripeto scusate ragazzi non vi faccio vedere ciao ciao ragazzi dove poi mi raccuse ragazzi scusate c'è sto ucciso qua alla cuore perché poi è vero che voi lo sapete prima di tutto è un ruolo per vedere la discoteca che si trova dietro con gli alberi vabbè che non vi farò vedere vi farò vedere direttamente appena stiamo in discoteca ragazzi stiamo andati in discoteca un attimo ragazzi aspettate un altro video qua c'è un po' di gente un attimo un altro che c'è innanzitutto e il cabello l'anno scorso perché l'anno scorso cioè non facevamo le video su youtube ragazzi qua c'è tipo lo stand la cosa c'è ed è diverso dal solito ragazzi scusate vedete le mani qui qui poi poi faccio vedere il campo da basket non sta la rete da pallavolo ragazzi un attimo oh senti anche questo è un pochino schifo vabbè però questo è il campo questo è il campo da 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 pallavolo by basket vabbè ragazzi non so come mi sentirete per quel fatto del vento mi sentirete meglio comunque un attimo guarda la videocamera la fotocamera del telefono comunque raga adesso vi faccio vedere le giostrine che ragazzi cioè non siamo alle giostrine ma là sono le giostrine ragazzi c'è la la discoteca stanno arrivando un kit dove la c'è il mio ristorante dove è una persona che cammina vabbè da là si va al bar e qua si vanno alle giostrine quindi andiamo cioè ragazzi io questo posto non lo vedo da un anno perché cioè io vengo ogni anno a fare le vacanze perché io poi c'è il bungalow che è la giostrine quindi qua c'è un altro parcheggio qua qui c'è un altro parcheggio comunque che è ancora un video però non vi potrò far vedere cioè dove vivo dove abito qua però a casa abito a madera lo sapete non vi posso far vedere perché stanno facendo i lavori i lavori i lavori i lavori guardate queste cose tutte di tutte le giostrine magari vi faccio vedere ragazzi stanno facendo colazione non le volevo disturbare chiaramente perché vabbè così sono le billette sono vari tipi ecco sì queste le saline ci sto camminando vabbè eh ragazzi da lì potete vedere che inizia il campereggio da lì inizia il campereggio migrana no allora io adesso eh cioè anzi ragazzi vi voglio parlare delle cose che scusate se ieri c'è un lavoro tipo a base di ripiense c'è un Mark Grimmer perché cioè stavo 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 al mare di notte con dei miei amici e niente ah comunque ho appena scoperto cioè tutto il tempo che sto a capire che sto da quando ero cioè non avevo 9 mesi forse avrò detto anche il precedente ok questo video lo montano dopo verso le 5 e mezza ho scoperto adesso che c'è un albero di giudizio ragazzi guardate guardate forse aspetta io vedo meglio guardate che ho scoperto posso fare la clip ragazzi comunque ragazzi adesso mi sento schiacciando io guardate forse forse vedete quello lì è uno quello lì quello lì ok è un frutto quando ci va a rompere a mangiare con mio cugino che ha portato una live su Tom Clancy's Rainbow Sixage ora quindi ragazzi adesso c'è un spiegare con me se volete vedere la macchina io lo faccio così diciamo il campeggio che sono malitata bella vicino al al telefono guardate vi faccio vedere abito io però un po' da lontano entrare allora qua prendiamo un attimo una scorciatuia via dunque ragazzi ho scoperto che non posso far vedere dove abito perché stanno cioè qualcuno a lavorare c'è un'estimatizzatore eccetera comunque se parla abbassa la voce perché sono tre due case e non voglio che mi sentano perché così cioè c'è venne fuori dal campeggio comunque a breve mi dovrò portare una GoPro perché c'è un bastone con una videocamera però lo sta tipo un bel po' però che fai le video in alta modalità e tutto quindi c'è perché c'è un Z-pop tutto il telefono che sto sprecando la memoria cioè le 7 giga che avevo liberi sono arrivata a 3 giga a 79 e poi vi voglio far vedere che ci sono 22 campi da calcio tra l'altro pure l'erba che ha fatto un po' lunga e poi quello che ho fatto vedere che ho fatto vedere prima quindi ragazzi vi faccio vedere l'entrata comunque quello che è passato quello è San Antonio è quello che sta in questo villaggio comunque 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 adesso sto facendo vedere un attimo un attimo l'entrata ve la faccio vedere raga guardate è lì giù mi sentirete piano perchè non ho dato il microfono cioè è l'aggio comunque raga che dire per questo video raga per questo video lasciate 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 like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e qui da ah raga fino a di concludere per questo riferiamo a 5 like perchè ho incontrato la salute Antonio vabbè raga è quello cioè non è solo non lo sto prendo per il culo vabbè raga che dire no macgamer è tutto lasciate un like 2 a 5 like e tutta volta vabbè macgamer è tutto bella bella